In fase final di preparare il dossier per entregar al Ministerio Público il proietto di hospital, in modo di premere, per fin di lunà, per il mese di novembre, noi lo stiamo entregando il dossier al Ministerio Público, sollecitando l'attenzione per il intero processo di vedo in quanto riguarda l'OHL, l'Ariano, il proietto di controlla la regla di un processo di protezione. Inoltre, in modo di fare il dossier, in modo di essere prudente, abbiamo fatto molto di un dossier nel momento, con il vostro preparatore per entregar un paquete completo al Ministerio Público, però a raiz della notizia in Ancazali, che va oggi in mexico, del ultimo giorno, mi chiede informare al nostro paese, per che il nostro paese sta convenzendo, che non sta facendo un stunt politico, a raiz del reto del Ministro di Salute, a fare una mia persona, per il mio padre del Ministerio Público, che è il nostro paese del Ministerio Público, se non sta dentro del dossier, che non sta in latino, è fatto come una Spagna, l'OHL, è un messo involucrato in processo di scandale, di un'altra per perdere, quando va male, e un'altra per la haia contrattato, per proietare, contro la Turega, che è un scandalo di corruzione, e ora qui, haci un'investigazione, che haci un'audit, un'independent'audit, di proiettare di OHL, per sovra che c'è un scandalo di corruzione, nel caso di OHL in mexico, che haci un'construzione, di caratteri, a base di concessione, lo che la ruba nostra chiamata Pay Pay Pay, un'altra per concessione, in questa nuova, indizionante di corruzione, non haci un'audit, non haci un'audit, sorry, arriva tur e contratti, con il lavoro di OHL in mexico, e di cosa non sta risultando, è stato il sacco, per sovra la nostra nuova, e di forma di procedere a qui, un'altra per oggi, ci sta involucrando, a avere una sorta di strategia commercial, è una strategia corporativa, un modus operandi di NAM, per ganare Vietnam, a base di manipulazione.